Benvenuti a tutti ragazzi siamo in questo nuovissimo video, siamo su GTA Oggi è un video particolare perché vedremo la prima puntata del Road to Glory Cioè noi all'inizio siamo poveri, poveri tra virgolette perché abbiamo Michael E dobbiamo cercare di guadagnare soldi per provare ad essere ricchi Quindi siamo appunto nella casa di Michael e che facciamo? E ora ve la mostrerò la casa di Michael Allora signori, questa qui è la stanza della figlia di Michael Mi dovrei intrufolare Ma io mi ci intrufolo uguale Bene, vedete quanto è bella, quanto le ho speso E lei? Quanto ho speso per farle fare una plastica alla faccia visto che era brutta Questo qui è quello stupido di mio figlio E sta giocando a uno strano video gioco Forse è Call of Duty Forse sì Vabbè raga ci vediamo Ok quindi siamo qui Ragazzi, questa macchina che non so che macchina sia Forse è un Audible È una berlina, questa è sicuro E dunque si va Dove andiamo? Andiamo a cercare lavoro Eh sì, tra virgolette Cioè andiamo a rubare un taxi E a fare un po' di lavoro Esatto Il taxi lo andrà a rubare lui Mentre una parte del lavoro la farò io Dunque eccoci qui Appunto, infatti Perché non ci avevo pensato Chiamo il taxi Chiamo il taxi Ok ragazzi, ci vediamo Quando arriva il taxi Raga è appena arrivato il taxi Che guiderò io No, che cosa fai? Devo farlo scendere Ammazzalo, no? Ok, ora fammi entrare E dunque raga Sono pronto a guidare il taxi Ok, siamo Il taxi Con una musichetta schifosa Mentre abbiamo Una stellina di polizia Se lì la vedete in alto a destra Ne renderete quanto Eccola Vediamo se la polizia si accorge che sono io Certo Ok, dribbiamo il primo poliziotto Non sai proprio guidare, zio Eh, grazie Cioè, la macchina in realtà Vabbè Sbaglio Sbaglio esplosa l'auto Leggermente, guarda Come ha fatto ad esplodere? Ma se entriamo nella casa Non c'è più la polizia? Sì, ti entro in casa Ok, allora A me è successo con Franklin A me una volta mi ha ammazzato la zia con Franklin Davvero? Sì È stato bruttissimo Pure io una volta l'ho fatto No, loro mi hanno fatto No scherzo, non l'ho mai fatto Uno addosso all'altro Quattro macchine da polizia Tutte una addosso all'altro Io non ho ruoto il bucato Perfetto Però il cofano è rotto Eh, va bene Lui sono ritratto Hai due stelline Che fulmine Ebbene ragazzi Adesso ci fermeremo un attimo E riprenderemo appena L'inseguimento sarà finito Niente ragazzi Siamo morti Quindi dobbiamo chiamare un altro taxi È andata male E io intanto Mi diverto a salire sulle auto della gente Evviva Guardate ora quando si muore E ora muore No, a morire proprio no Speriamo Bene, il taxi è un po' lento ad arrivare Perché il servizio non è ottimo Avrei preso volentieri una di queste macchine Però ho dato che sì Ma quanto è alto Michael? Due metri e mezzo Ma cos'è? È bassissimo zio Oh ma il taxi, scusa? Eccolo No Credo che non sia taxi Dove diavolo è? È un'autoparcheggiata lì E non è il taxi, signore È un dene, è un alimente Ma appena investito, signore Ottimo Ci metto un taxi ad arrivare, oh Eccolo Dove? Ma sta lì Ottimo Possibilmente sparagli E ora prenditi quell'auto Ma cosa che è morto sto tizio? Non c'è la polizia, vero? Sì Vai fuggi tu Fuggi tu Se io sono bravo Pure i soldi, bene Quanto ci ha dato? Poco Vabbè 12 euro 12 dollari zio Siamo in America Sì ho capito però Vedete la differenza tra uno che sa giocare e uno che non sa giocare? Ma cosa dici? Ma per favore Almeno io so guidare Sì infatti Sapete Visto? Sì Certo Non veste 5 persone Ah mo vedi Come sai guidare bene Tanto io non sono mai andata a sbattere Tipo mo signore vado a sbattere Aspetta accendo una Bene non ho più la musica che è meglio C'è ancora la poli? Sì 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 Una stella ma Una ti sta venendo proprio in fronte Da dove? Da di fronte Da di fronte dove? Sta lì Ottimo Bene signore Non ce l'hai mandata a sbattere giusto Beh perlomeno Sì da vicino Ragazzi per oggi facciamo soltanto una missione Cioè una E poi ci sarà il secondo video Sempre il road to glory Speriamo oggi Ok l'hai esaminata? No Due stelle State tranquilli Io non la sento più Eh però ce l'hai davanti Davanti dove? Ah eccolo Non me ne ero accorto E hai sempre due stelle Anche se non la sto proprio vedendo Stavo per prendere un motociclista Invece ho preso un cartello Meglio E ora anche un motociclista Davvero? Sì Ah bello Anzi brutto Mi sa che ti stanno perdendo Speriamo Sì ti stanno perdendo Non ti farlo relocalizzare Dai ma sei stupido Eh non l'avevo visto Come fai a non vederlo? C'è il sole zio Guida tu col sole Ci ho guidato prima Attento è la polizia davanti Davanti dove? Sta lì Sei cieco o cosa? Vabbè ragazzi ci vediamo Quando è finito l'inseguimento Bene signori Adesso andiamo a fare una missione Sulla mappa ci dovrebbe Ecco Vedete la macchina di prima Dato che è tutta la mazza Io sono sfuggito dall'inseguimento A 50 metri A 50 metri sta E questa? Bene non è lei Sta più avanti Non è lei Sto dici Ballo zio E? Come stai? E? Quanto? Quanto? Due chilometri Manco tanto Io una volta ne ho fatti 12 Ma cosa che 12 è fuori dalla mappa? Appunto sono andato No non è fuori dalla mappa E quel negozio di Mike dovevo andare Appunto Sono andato più lontano di quello Come hai fatto per l'ultima vestimentazione? No perché la mappa è ancora più grande di così Davvero? Vuoi vederla? Adesso E poi dice che non so guidare Attenzione se no quello lì si nervosisce Sono un semaforo Non dice se puoi passare o no Tranquillo amico Sei in buone mano Quanto manca? Un chilometro e dieci Ragazzi ci vediamo direttamente a destinazione Eccoci di nuovo signore Arrivati quasi a destinazione Ha preso la curva un po' male Non si dicono le parolacce Non dire parolacce sono capolizia Gira Ma dove? Dritto Giro dritto Gira vai avanti Tra poco gira a destra E ora che cos'hai da dire? Ora devo dire che tra un po' devi girare a destra La macchina non va molto Cioè non l'hai trattata molto bene durante l'inseguimento Sono fido però almeno Cioè Vai Gira Poi non so Sei quasi arrivato Il motore sta fumando Giro 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 Stai tipo lì Devi andare sul puntino Lo Quanto mi hai dato? Vado a destinazione Uuuuh 138 Ma c'ha solo 0 Mi scrivi Bene signori Bene signori Ci vediamo nel prossimo video Nell'episodio 2 Road to Glory E adesso devo investire Quest'izio con la mano Perché mi hai detto Uuuuh Va bene allora signori Ci vediamo nel prossimo video E ciao a tutti Mi raccomando Iscrivetevi Lasciate like E non fate come lui Alla prossima E io Grazie.